Sarà giudicato in un processo con rito abbreviato, con prima udienza il 3 ottobre prossimo, Niccolò Patriarchi, il 34enne, che il 14 settembre 2018 uccise il figlio di un anno con coltellate durante una lite in casa e che tentò di uccidere anche l'altra figlia di 7 anni e la convivente, con cui si era accesa una discussione. Il dramma si consumò nella loro abitazione a Sant'Agata di Scarperia, nel Mugello, secondo quanto stabilito da un perito incaricato dal GIP, l'uomo risulta affetto da un grave disturbo della personalità e deve essere considerato una persona socialmente pericolosa, tuttavia è in grado di comprendere il contesto giudiziario in cui si trova e dunque è in grado di sostenere un processo. Al momento dell'omicidio il 34enne era già indagato nell'ambito di un'inchiesta per maltrattamenti alla convivente, ma alla fine del maggio scorso la Procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione di questo procedimento rilevando la carenza del requisito dell'abitualità delle condotte vessatorie. Su questo aspetto giudiziario della vicenda illegale della ex convivente di Niccolò Patriarchi ha presentato opposizione all'archiviazione.